Ciao a tutti! Questa è una meravigliosa cicala che ho trovato qui in giardino. È un insetto molto famoso per il fatto che il maschio emette un caratteristico canto di richiamo che tutti noi sentiamo durante l'estate. La cosa particolare è che vive per un mese e mezzo circa, giusto il tempo per la riproduzione, mentre allo stadio larvale vive per svariati anni nutriendosi delle radici degli alberi. Ora la vado a liberare.